Pace bene, si avvicinano i giorni della festa del nostro santo di Francesco di Assisi e per noi sarà un momento di nuovo importante per ritornare sui passi della sua vita e per raccontare ancora una volta come è diventato pienamente uomo. E lo faremo qui in santuario con un triduo nei giorni di venerdì, sabato e domenica alle ore 18, ma in particolare domenica alle ore 17 rievocheremo il transito di Francesco cioè il passaggio di Francesco al padre, quel padre che ha sempre cercato nella sua vita per il quale si è denudato di fronte al Vescovo e poi quando si è spogliato di sorella morte e l'ha incontrata così come Lui voleva vivere. Il giorno del santo, alle ore 18, ci sarà la solenne celebrazione del ricordo di San Francesco. Sarà un momento importante, attorno a Lui si stringerà la città, il Vescovo, i sacerdoti, la vita consacrata, le autorità civili e militari. In quell'occasione il Presidente della provincia e Sindaco della Spezia accenderà la lampada della pace e dopo questo gesto farà il consueto discorso alla città.